Ciao, buongiorno, qualcuno c'era ieri, ha seguito il mio corso sicuramente, penso un po', abbiamo parlato parecchio di come aprire la partita IVA, tutti i problemi sul regime forfettario e siccome ci sono state anche tante domande poi alla fine non c'era più tempo, penso che poi dopo faremo un tavolo fisco, quindi chiunque di voi avesse voglia o bisogno di fare domande lo possiamo fare dopo. Venendo invece al talk di oggi, il titolo nato a luglio era pagheremo meno tasse perché in quel momento storicamente c'era un altro governo e le intenzioni del precedente governo erano state ampiamente dichiarate, quindi ci aveva un senso quel titolo, perché il precedente governo aveva detto che avrebbe voluto mettere mani alla revisione, al ribasso ovviamente, delle aliquote IRPEF e degli scaglioni, parliamo di IRPEF. Purtroppo una brutta notizia è che non sarà così, oggi c'ho solo brutte notizie, ve lo dico prima, così non mi tirate le arance perché sono allergica, però non è colpa mia. Dunque, cambio di governo lo sappiamo tutti, proclama del nuovo governo la lotta all'evasione, che è un proclama che hanno un po' tutti i governi, la storia dell'Italia è piena di tutto questo, però poi ognuno declina questa idea in maniera ovviamente diversa. La politica economica è fatta sulla variazione sulle tasse, cioè la politica economica di qualsiasi governo al mondo si basa su alzare, abbassare in tutti i vari settori le imposte, le aliquote o le detrazioni, quindi è chiaro che la parte fisco, la parte tasse, alla fine, in sostanza, è il lavoro più grosso di qualsiasi governo al mondo, quindi non è una cosa banale o è proprio fondante. Quindi il governo attuale proclama, cerchiamo di ridurre l'evasione. In Italia il fenomeno, lo sappiamo, è enorme, il famoso nero è immenso e io ho un mio pensiero, buttatelo subito appena lo dico, ma secondo me l'Italia ancora si regge molto perché forse chissà quanta parte del pillo è dato dal nero, quello che noi non sapremo mai. Purtroppo, purtroppo fa parte un po' anche, secondo me, un po' del DNA di nuovi italiani, perché tanto la prima domanda che il cliente mi fa è come si fa a non pagare tasse? Tutti, indistintamente tutti. L'ultima, l'altro giorno, mi è piaciuta perché mi fa un vocale, mi fa, sì guarda io vorrei aprire la partita IVA, ma io sono contraria ad aprire la partita IVA, perché io non voglio pagare le tasse? Ok, e io come ti aiuto? Cioè, meraviglioso, ma è così. Poi non ne parliamo del fatto di pagare l'INPS, perché lì c'è ancora il concetto, io adesso pago dei soldi che nessuno mi riderà indietro. Vabbè, anche questo, insomma, evitiamo i commenti sul discorso perché tanto sarebbe un'altra lezione, un altro talk. Comunque, veniamo a noi. Nella intenzionalità del governo, essendoci questo fatto, di cercare di ridurre l'evasione, la prima notizia che forse non vi farà molto piacere, che io penso che sarà probabilmente quella che poi uscirà, è quella dell'obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Stamattina, ultimo articolo che ho letto perché in questi giorni, sapendo che devo venire qua, ho cercato di leggere tutto il leggibile. Però, ragazzi, qualsiasi cosa che adesso dico, sono solo rumors, sono solo articoli scritti da un giornalista o da un altro, da gente che non è neanche giornalista. E ve lo dico proprio col cuore. Vi prego, non leggete gli articoli sui siti generalisti, quelli che hanno solo interesse, che clicchiate sul sito per avere visite con titoli sensazionali. Se proprio volete provare ad informarvi, il Sole 24 Ore, Italia Oggi, questi sono gli unici due siti che possono essere considerati seri. Poi, per carità, quelli dei quotidiani nazionali più titolati, sicuramente non è che scrivono stupidaggini, ecco. Sicuramente. Già sono girate tantissime voci, una delle quali probabilmente porta in confusione, perché parla di un regime che neanche esiste. Perché ci sono tantissimi articoli che dicono che viene abolita la flat tax al 20%. Non so se li avete letti. Cancellateli, cioè non li leggete proprio. Perché? La flat tax al 20% è una normativa che è stata scritta nella finanziaria dell'anno scorso, ipotetica, per un regime diverso, una possibilità di applicare un 20% per i redditi da 65.000 a 100.000 euro, non è mai nata, non esiste, quindi sarebbe un aborto, perché neanche è nata e già la vogliono cancellare. non è mai stata richiesta l'autorizzazione alla Comunità Economica Europea per applicare questo regime. Quindi questo porta solo confusione. Resta il regime forfettario, che più o meno penso tutti conoscerete, con l'imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni e successivamente il 15%. Su questo benedetto regime tutte le voci girano intorno a questo, perché probabilmente alcuni componenti dell'attuale governo, alcune parti politiche, vorrebbero ridurlo, cioè vorrebbero ridurlo il tetto dei 65.000 euro. Lo sapete, fino all'anno scorso il tetto massimo dei compensi fatturati è incassato. Ricordatevi questa cosa che spesso non tutti sanno. quando si parla del regime forfettario per non superare il limite vi dovete ricordare che non si intende le fatture che avete emesso ma le fatture che avete emesso è incassato. Quindi se ne mettete una il 20 dicembre e la incassate il 10 gennaio quella andrà da conteggiare nell'anno successivo e concorrerà al tetto dell'anno successivo. Mi raccomando, tutte e due le cose, cioè non ve le dovete dimenticare, non ve le dovete perdere per strada. Quindi il tetto era 30.000 euro fino all'anno scorso. Qualcuno ha scritto, in molti hanno scritto, devo dire, che una delle modalità per recuperare un po' di tasse per il governo sarebbe quello di ritornare al vecchio tetto, cioè scendere dai 65.000 e ritornare ai 30.000. E questo chiaramente nuocerebbe parecchio a tutti coloro che guarda caso proprio quest'anno avendo magari un fatturato di 40.000, 50.000 euro erano transitati al regime forfettario. Io credo che sia molto impopolare come scelta, per ora quello che si legge in questi giorni non sembrerebbe questa la scelta del governo, però tutto quello che io vi dico oggi è fumo. Ricordatevi una cosa, è 25 anni che io leggo finanziarie, la finanziaria di oggi la bozza è diversa da quella di domani e di dopodomani, l'anno scorso è uscita il 31 dicembre ed era diversa dalla bozza portata in aula il 30 dicembre. Quindi fino a che non si vede pubblicata tutto il resto è noia diceva qualcuno, quindi sono solo chiacchiere, chiacchiere, ci riempiono siti, eccetera. Invece una cosa che ho letto stamattina e alla quale devo dire la verità avevo pensato anch'io, quindi potrebbe pure essere, potrebbero decidere di introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica per il regime forfettario esonerando quelli fino a 30.000 euro, cioè dando la possibilità a chi sta sotto i 30.000 euro, parlo sempre del regime forfettario perché tutti gli altri lo sappiamo che già la fatturazione elettronica per noi è obbligatoria per tutti gli altri dal primo gennaio di quest'anno, potrebbero essere esonerati quelli che hanno il fatturato fino a 30.000 euro, invece da 31.000 30.000 e 1 euro in su fino ai 65.000 quindi lascerebbero la soglia più alta dei 65.000 obbligando però ad emettere le fatture elettroniche. Che c'entra questo con la lotta all'evasione potrebbe essere una domanda logica la risposta invece c'è sappiate che voi forse chiaramente magari è difficile che vi rendete conto però mentre una fattura elettronica nel momento in cui viene emessa per toglierla per eliminarla l'unica cosa che posso fare è una nota di credito elettronica vedo che in tanti fate sì quindi evidentemente in tanti avete anche l'obbligo della fatturazione elettronica quindi resta traccia di quello che fate perché fate prima una fattura e poi una nota di credito invece sul forfettario non avendo obbligo ancora di fatturazione elettronica io la mando cartacea faccio un pdf va da sé che la faccio sparire quando voglio lo so non sono discorsi molto carini questi però è la realtà aggiungo poniamo che io sia l'amministratore di una srl di una società le società hanno un bilancio per competenza non per cassa che vuol dire io chiudo il mio bilancio a dicembre di quest'anno a gennaio faccio i conti con il commercialista chiudiamo la contabilità mi rendo conto che ho grossi utili voglio una fattura di costo me la posso far fare solo da un forfettario perché è cartacea e non è elettronica quindi c'è molto giro serve molto all'elusione non dico all'evasione ma all'elusione perché in questo caso se mi fa una fattura a un forfettario al 5% le tasse le pago con il 5% non le pago con l'IRPF della società non so se vi è chiaro il discorsetto perché se uno non è abituato a ragionare in termini di bilancio di società è un po' difficile questo approccio però questo è per farvi capire che in realtà il forfettario può istigare all'evasione o all'elusione cioè a ridurre il carico fiscale e molti componenti del governo per questo vorrebbero riportarlo ai 30.000 euro perché si è capito che può essere utilizzato in questo modo io spero molto insomma per tutti che prevalga l'ipotesi di magari ecco introdurre la fatturazione elettronica mi sta bene tra i 30.000 e i 65.000 euro perché magari chi sta sotto ai 30.000 veramente è proprio minimo però tenete presente che con i software odierni e io insomma noi abbiamo avuto l'esperienza di quest'anno per noi l'introduzione della fatturazione elettronica a gennaio è stata veramente un incubo ve lo garantisco poi in realtà il mio software per esempio quello connesso al mio programma di contabilità che io per esempio do gratuitamente ai miei clienti senza dover andare a comprare che ne so fatture in cloud fatture 24 i vari software che sono presenti sul mercato funziona benissimo non ci dà nessun problema ed è già pronto per la fatturazione elettronica quindi io lo do anche ai forfettari tanto per farvi capire se fanno le fatture da soli sono pronte e sono anche pronte per la fatturazione elettronica quindi non spaventatevi anche se dovesse arrivare ecco la fatturazione elettronica per voi perché ormai il sistema è a regime e funziona i primi mesi no ci ha dato 3500 problemi però ormai da questo diciamo siamo abbastanza fuori non credo che ci saranno assolutamente la prospettata revisione della liquida IRPEF non se ne parla proprio più non è nel programma di governo quindi penso che per ora proprio ce la scordiamo anzi addirittura per recuperare imponibile vorrebbero ridurre o eliminare del tutto alcune detrazioni però anche queste sono tutte chiacchiere l'ultima cosa che Alessandra mi caccia l'ultima cosa che volevo dire qual era me la bisogna scordare dunque ecco il problema grosso è l'IVA tutti questi discorsi ruotano esclusivamente intorno all'aumento dell'IVA l'aumento dell'IVA non è una cosa di questo governo né di quello precedente sta già scritta in uno dei governi berlusconi quindi andiamo indietro di un sacco di tempo ogni anno ogni governo si impegna per cercare di evitare l'aumento dell'IVA la cosa più probabile che succederà e se la fanno vi giuro che è veramente una bella mossa perché beccheranno un botto di IVA senza colpo ferire aumentare l'IVA del 10% sulle prestazioni di servizi di bar e ristoranti quindi a noi ci costerà di più il caffè la pizza voi forse neanche lo sapete la maggior parte di voi ma l'IVA su tutta la somministrazione di alimenti e bevande dal caffè al ristorante stellato tutto l'IVA è al 10% stamattina leggevo che forse la portano al 22% un botto si raddoppia in questo modo recuperano tutti i soldi che gli servono in una botta sola forse potrebbero trovare una strada intermedia creare una liquota nuova magari portare solo questa IVA della somministrazione di alimenti e bevande al 15% sono cose che si possono fare serve sempre l'autorizzazione della comunità economica europea però ci sono dei margini se fanno così pagheremo tutti un po' di più dal caffè in poi però forse anche più democratico io perlomeno la vedo così va bene corso tavola fisco l'unica cosa che mi permette di aggiungere avete tutti nella busta che vi hanno consegnato questa cartolina e dietro c'è il mio sito se vi iscrivete alla lista mail vi arriva un pdf in cui ci sono tante cose però io soprattutto attraverso le mail cerco di tenervi informati di tutte le novità mano a mano che accadono e quindi magari può essere una cosa utile Laura grazie a tutti grazie a tutti